Cosa faccio? GG Allora Vado alle fattorie Alle fattorie Allora un lama là E un lama là Ok Lama là Lama qua Due lama qui La 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 E l'altro l'hanno già preso Prendo almeno un'arma Ecco Così Vado a fare così Vado a fare così Faccio questa Ma scusa Non ho capito bene L'hanno preso E non ti prendi la jump Allora non ho l'assalto E non ho capito … Hmm. Annaggia a me Gli avrei dato una pompata Vabbè Holy ages Bene Ma io perché mi lendo Sempre così male La cacca gnomo Scusate Vabbè ragazzi Questo ho pompa Questo bello Annaggia Allora ci stavo per morire male Ma Perfetto così No vabbè Non entrano i colpi Ok Allora Lui entra però Palle No vabbè Grazie! Oh, finalmente! Questo? No way! Ok, palle! Le due jump anteriori ne abbiamo abbastanza, la mi è sembrato di vedere qualcuno E... Provo a verificare... Ok, sì! 150 ne abbiamo tirato Abbiamo tirato, quel raggio era un po' inutile Ma... Scusate Mi aspetta lì? Ok Nooo... Eh, vabbè Eh, dai! Ok Eh... Scusate Mi ricaricare un attimo Ok 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 Nooo... Nooo... Ah... Mannaggia Faitando Mannaggia Non è solo lui Ehm... Ok 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 Ah Ah, peccato Peccato Eh, questo era il... Va bene, dai Alle fattorie Alle fattorie Ora Partirà la canzone Alle fattorie Nasce una bontà Scendo qua Prendo questa Scusami tanto Ma potevi benissimo Non stare lì fermo Molto bene Vabbè Dammi altre Mi... Tragliate il gioco Ma scusate Ancora? Ma... Modalità Solo mitragliette Oh Non so Ma che è lui? Ma che è? Modalità solo mitragliette Ragazzi Allora Provo ad andare alla casa Magari Allora Allora Sì Sì Chia « Quattro» Sì Sì A me non piace quello dietro Ma non dovevo modificarla così Quello è il mezzo al grano Non so dov'è Allora adesso vado alla Facciamo così Carichiamo Io non so se stia fightando Con il bot o con qualcuno Ma penso con qualcuno Così evidentemente Allora proviamo a mandarci Materiali ne ho pochi Allora Ok Ok Lo vedo lo vedo lo vedo Allora Solti Ovviamente qua ci viene il mondo Come sempre Vabbè Tentiamoci Tentiamoci Tanto oggi siamo pro player Allora ci becchiamo questa casetta Tentiamoci Era un bot Oh mannaggia Eh raga qua Un dispersivo Eh no Non ho materiale Cioè non è che è materiale Non ho vita Ah Sono morto Sono morto Questo va benissimo Questo va benissimo Non ho Non ho Le armi che aveva Questo Dai 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 Qua cosa abbiamo Da prendere Ero per un attimo Incartato Cosa faccio Dai raga E come posso Sono tre Sono tre Ci becchiamo Ci vado in elicottero Se proprio devo andarci Eh aspettiamo però Aspetta un attimo Che becchiamo Che becchiamo Two hours later Foresta Frignante Ma scusate che stavo sparando Vabbè Era un bot No Ma Ma Vabbè Vabbè Era un bot Ma raga Sono tutti i bot Come me Vabbè Vabbè Venite 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 Ma raga Ma sto facendo La prima partita Di fortnite Ormai è così Si trovano Tutti i bot All'inizio E poi E poi La devi vedere La fine Con Ecco Player Esagerati Per 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 Ehi, che è, mi viene entrando qui tulli, va bene Che noia Qua c'è del loot Venga, buono E basta Ma raga, ma qua ci sono morti tutti? Praticamente qua i bot hanno fatto strage MINGGABA Ecco Ho appena preso una jump Noo raga Non c'è credo 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 MINGGAGIA Allora Ma... 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 Ah, non c'è spuglio Ragazzi, nemmeno non c'è spuglio No Oh La Quello che mi ha rubato E' lui? Oh E' quello che mi ha rubato Prima Eccolo Eccolo Ma porca miseria Ma scusate che Ma all'arco Eccolo Non scendi? Salvo io? Ma dove cacchio è? Allora ho l'ammazzo Ho la finito di fare lo sciammo Allora ho la finito di fare lo sciammo Allora ho la finito di fare lo sciammo E vai ragazzi Ho tirato un no scoop Raga se ne entrava in testa Spaccavo qualcosa Però gli è entrato dai GG GG Allora ho la finito di fare lo sciammo